Allora Cosmi, un pareggio secondo lei giusto o forse l'Ascoli soprattutto in virtù del secondo tempo meritava qualcosa in più? Ma sai giusto, ormai sono abituato al calcio che poi alla fine se... Una banalità, se fai più gol degli altri meriti di vincere, però devo essere sincero, credo che se dico questa Pescara nessuno si arrabbierà perché poi la partita con molta serenità l'hanno vista tutti e dopo si può anche ragionare, credo che soprattutto per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo abbiamo creato più di quello che ha creato il Pescara sapendo che il Pescara è più forte di noi e quindi questo bisogna tenerlo sempre in considerazione. E quindi in virtù di questo credo che oggi ci è mancato un pizzico di fortuna o di freddezza, non chiamatela come vi pare, insomma, per poter portare a casa una partita che tutto sommato avremmo meritato di vincerla. Forse questa è la prima partita, Cosmi, dove il Pescara non è riuscito a fare neanche una giocata denominata la Zeman, una giocata zemaniana. Quanto c'è di merito del suo Ascoli? Noi abbiamo preparato una partita su quelle che sono le nostre qualità e in questo momento le nostre qualità non possiamo esprimerle al pieno perché se tu hai fuori Favilli, se tu hai fuori Rossetti, se tu hai fuori Miglianelli, se tu hai fuori, aiutatemi voi, qualcun altro, insomma, Mengoni, ma mi dimentico anche qualcuno Adurso, voglio dire, giocatori che in quella che è la nostra rosa, io sto parlando di quelli che sono giocatori fondamentali, soprattutto nei ricambi durante la partita, stai andando oltre quelle che sono le tue possibilità. Oggi, devo essere sincero, in tre partita questa squadra non posso rimproverare niente. È chiaro che rimproverai tanto, sotto l'aspetto, magari nel capire alcune situazioni, ma questo è impossibile in dieci giorni. Questa è una squadra che è cresciuta partita dopo partita e, come dicevo prima in sala stampa, chi considera l'Ascoli una predestinata a qualcosa di brutto, io sono felice che ci sia questo tipo di atteggiamento perché nessuno capirà quello che combineremo il giornale di ritorno, in positivo ovviamente. Adesso raschiamo il barattolo come è giusto fare, oggi abbiamo finito la partita, credo con, non credo, sicuramente con due giocatori o tre che non giocheranno tutti nello stesso tempo, questo riparto a Brescia e questa non è che ci mette di buon umore. Mister, ci sono state delle proteste nel primo tempo, prima del Pescara al primo minuto per un tocco con la mano di De Santis in area dell'Ascoli e poi a fine primo tempo per un'azione che in area del Pescara ha visto poi un contrasto con Perez a terra. Ci sono state delle proteste vivaci, soprattutto da parte vostra. Lei cosa ha visto dalla panchina? Ma guarda, quella di De Santis sinceramente, io credo che era viziata l'azione da qualcosa, però ripeto, non era troppo. Il giocatore aveva le mani piuttosto allargate, le braccia allargate. Quindi l'epilogo molto probabilmente poteva essere quello, ma precedentemente c'era qualcosa, adesso non mi ricordo, era iniziata da pochissimo la partita. Quello di Perez, devo capire se è l'anno uno che sviene da solo davanti al portiere, e allora mi preoccupo per lui. Io credo che è un attaccante viva per trovarsi di fronte al portiere e poi si può accentuare un pochino più o un pochino meno. Però, insomma, non voglio pensare che sia caduto per cercare un rigore quando poteva far gol abbastanza facilmente. Pescara è tutto questo, non nel fatto che c'è stata una finale dove potevamo andare in Serie A con il Trapani e non ci siamo andati. Dove i migliori in campo sono stati... Vabbè, non mi fate parlare, sennò prendo cinque anni di squalifica, però avete capito i migliori in campo all'andata e al ritorno ci sono stati. Pescara di Zeeman? Pescara di Zeeman... Io ho sempre detto, quando incontri la squadra di Zeeman, allora, non sai chi giocherà, però sai come giocherà. Quindi ti crea certe difficoltà, devi allenarti a soffrire, perché i movimenti che fanno sono sempre particolari. I giocatori come Brugman, come Colibali, come Carraro, che io considero un futuro grande giocatore e sono capaci di fare imbucate, metterti... Siano Pettinarica e Capocannoniere o Giudini, insomma, qualcosa significherà. Credo che oggi non si è visto in fase offensiva. Questa è una squadra che fa gol, crea tantissimo. Oggi il tiro di Crescenzi, la deviazione sulla traversa, poi ditemi voi quello che hanno fatto. Quindi questo credo che depone anche, comunque, merito di una squadra che ha saputo contenere una squadra che sulla carta è più forte di noi. Ha salutato il presidente Sebastiani? Certo, ma io con Sebastiani sono lasciato benissimo. Cioè, sia quando ero a Pescara, ogni volta che l'ho rincontrato, ci salutiamo con molta tranquillità. Io ho tutto l'ambiente pescaresse, ho salutato con estrema... I tifosi compresi, ci siamo lasciati benissimo. Poi, uno va da una parte, va dall'altra, ma non è sicuramente la piazza dove conservo un ricordo negativo. Su quello l'ho detto prima, l'ho detto quando mi è capitato di perdere le partite. Se vi ricordate, a fine partita a Trapani sono andato sotto la curva del Pescara a salutarli. e credo che in quel momento non era facilissimo andarci. Era molto difficile. Grazie al tecnico della formazione bianconera, Cersei Cosmi.